Un caro saluto a tutti da Francesco Amodeo. Ieri, come saprete, sono stato ospite della trasmissione Non è l'arena di Massimo Giletti, dove avrei voluto approfondire i temi della mia ultima inchiesta giornalistica sulla guerra in Ucraina dal titolo Perché il conflitto è nato. Nato ovviamente scritto con le lettere maiuscole. Purtroppo non mi è stata data la possibilità, forse anche per mia stessa incapacità, poi magari chi ha visto la trasmissione si sarà fatta un'idea, di poter raccontare agli italiani quelle che sono alcune circostanze determinanti per capire le origini e le cause della guerra in corso tra Russia e Ucraina. In questo video proveremo ad analizzare quelli che sono stati i miei interventi in tv, quelle che sono state le risposte del conduttore e soprattutto i punti in cui mi hanno interrotto in modo che io possa continuare con la spiegazione per rendervi chiaro quello che era il messaggio che io ritenevo indispensabile poter passare in una tv nazionale. Guardiamolo insieme. Quello di cui vorrei anche discutere a quest'ora è il passaggio strano, il rapporto di alcuni gruppi no-vax che sono diventati pro-putiniani. Non si può generalizzare ma certamente è un'equazione che in alcuni casi vale. Saluto Luca Telese, vice direttore di TPI. Anche da Luca. Ciao. Di nuovo. Buonasera a Francesco Modeo. Punto di riferimento del sito Noi Italiani, è uno che si è incazzato molto con me per l'equazione, per questa equazione no-vax pro-putin. Insieme a lui in studio c'è l'esia rompita. Modeo, lei si è arrabbiato, ti sei arrabbiato, diamoci del tuo perché siamo colleghi, ti sei arrabbiato molto su questa equazione che ho fatto la scorsa settimana. Chiaramente lo ripeto, non è che si può generalizzare, ma il racconto di Franzoni, la storia di Franzoni, le parole di Franzoni, insomma, sono un dato su cui non si può discutere. Massimo, le parole di Franzoni. Bah, io mi arrabbio tantissimo ancora a vedere un servizio del genere, te l'ho detto in radio, te l'ho detto a Canal Italia, non ti fa assolutamente onore fare un tipo di giornalismo del genere, che io definisco giornalismo da stadio, da bar. Non ha alcun senso creare un'equazione del genere, oltretutto andando a riprendere personaggi che avete utilizzato quando serviva l'equazione no-vax uguale estremisti, siete tornati dagli stessi personaggi quando vi serve l'equazione pro-putin uguale estremisti uguale no-vax. Io davvero non riesco a capire come sia possibile, ti trovi su un fronte di guerra, stai vedendo le sofferenze del popolo, dobbiamo fare in modo tutti insieme di lavorare per la pace e far vedere in questo momento un servizio del genere, dopo le scene che ci hai fatto vedere, io davvero non ne riesco a capire da collega a collega il senso giornalistico di questa equazione. Scusa se mi continuo ad arrabbiare, ma ho sentito un'esaltazione di chi va a combattere nel Donbass. Da Franzoni ho sentito dire un'esaltazione, anche le parole, c'è gente già che combatte nel Donbass italiano. Però non mi puoi continuare a dire, ho sentito dire da Franzoni, perché... Beh, Franzoni ha molti proseliti nel mondo dei no-vax. Parla a nome proprio, parla a nome degli italiani, parla a nome del governo, parla a nome di chi? Parla a nome personale. Quindi domani magari, che ne so, ci opponiamo al MES, Franzoni si oppone al MES che viene rifirmato, voi andate a Franzoni e dite, guardate, i no-MES sono fascisti. Cioè, quanto deve durare ancora questa sceneggiata? Luca Telese! E te lo sta dicendo un napoletano quanto deve durare ancora questa sceneggiata, figuriamoci. Però non capisco come può arrabbiarsi, nel senso che siamo in un programma che hai criticato e sei venuto ospite. Dici esattamente quello che vuoi, esattamente come tutte le persone che stiamo raccontando. In questo programma si racconta tutto senza filtri. Quindi dire, non raccontatelo, o dici che non è vero, oppure non è una critica che abbia senso. Allora, non raccontatelo, voi siete liberi di raccontare quello che volete. Massimo giustamente mi ha detto, da collega ti sei arrabbiato nei miei confronti per questo servizio, proprio perché stimo Massimo come persona questo programma e mi piace. Ho detto, da voi non me lo sarei mai aspettato, perché mi aspetto un servizio sulla guerra e mi aspetto di spiegare agli italiani quali sono le cause di questa guerra. Perché se noi vogliamo che questa guerra finisca, dobbiamo capire quali sono le cause. Basta condannare una guerra quando è già scoppiata, puntando soltanto il dito verso il colpevole. Dobbiamo capire quali sono le cause che da otto anni portano la guerra in quel paese. Altrimenti rimuoviamo Putin e tra quattro anni siamo punto da capo e torneremo da Franzoni a fargli dire il nome del nuovo dittatore. Guarda, cerchiamo di aiutarmi perché condurre da lontano non è semplice e poi siamo già oltre mezzanotte. Qua siamo oltre a luna, quindi vi prego la cortesia, sono giorni che non dormo. Vi chiedo solo un minimo di rispetto di questa situazione. La domanda è molto semplice. Io ho ascoltato queste parole, leggo su Telegram, leggo gruppi che erano veramente legati al mondo dei Novax e mi chiedo perché. Guarda, adesso ti faccio vedere un altro passaggio, una galassia fascista che anche lì ha delle divisioni. Guardate che cosa raccontano a proposito di questa posizione pro Putin. Io sono contento. Fai questa dichiarazione, cari fan, se siete pro Putin, il Novax mi disposto. Io ho preparato un'inchiesta che si chiama Perché il conflitto è nato. Ovviamente è nato, doppio senso. Perché il conflitto è nato, anche inteso come alleanza d'altro. Dove metto in evidenza tutte quelle che sono le responsabilità degli Stati Uniti e della Nato nell'escalation del conflitto. Quindi nell'aver indotto quel pazzo di Putin, vi va bene la parola pazzo di Putin, a fare un gesto estremo. Anche se io ho ripetuto la parola pazzo, però vedo che voi gli date del pazzo, ma non lo trattate come tale. Io non gli do del pazzo. Cioè non lo trattate come tale da 8 anni. Ma tu parla vero per te. Tu le dai del pazzo, io non lo trattate. E voglio spiegatelo cosa. Amodeo, 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 scusa, scusa. Penso che Putin sia tutt'altro che pazzo. Esattamente, bravo. Penso che sia proprio quello che ho pensato. Molto superficiale di Putin, il raggio che invade e massacra la gente e fuori da ogni regola. Assolutamente. Questo sia chiaro. Ma non voglio fermarmi su questo. Io voglio capire come mai ci sono delle strane, strane, dei strani legamenti tra mondi di destra e mondi di sinistra, anche sul Donbass, sulla difesa di chi lotta per liberare il Donbass. C'è la possibilità. Provare a raccontare in due minuti quello che è accaduto nel 2014 in Ucraina, che è la causa di quello che stiamo vivendo adesso. Ma allora stiamo facendo di nuovo la storia di quello che è successo. Io la capisco che lei è interessata a raccontare. La conosciamo la storia. Qualcuno non ha mantenuto i patti. Oggi c'è una guerra però. Lei lo sa che oggi c'è una guerra. Assolutamente. Io veramente la guerra la conosco dal 2014. Quindi io cercherei di ragionare su questo, non sul 2014. Le colpe ci sono, non è che le nascondiamo. Massimo. Ma non giustifica quello che stiamo vedendo. Se una guerra nasce nel 2014, l'escalation è nel 2022 e noi raccontiamo soltanto quello che accade nel 2022, vuol dire che non rimuoveremo mai le cause di quella guerra. Se io adesso chiedo qui all'amica ucraina, che voglio chiarire, gli ucraini sono la grande vittima di tutto quello che sta succedendo. Ma da sempre, da anni, sono vittime di Putin e sono vittime degli Stati Uniti che li hanno trascinati in questa guerra perché stanno ottenendo tutto quello che non potevano mai sognarsi di ottenere facendo combattere la guerra ad altri. Questo deve essere chiaro. Sono vittime della Nato che li ha illusi e sono vittime del loro governo a partire dal 2014. Se io adesso chiedessi all'amica ucraina nel 2014 come è stata la vostra rivoluzione? Lei mi risponderebbe democratica. Gli hanno fatto credere che nel 2014 in Ucraina c'è stata una rivoluzione democratica. Mentre in quella piazza c'erano i veri neonazisti, non quelli che abbiamo fatto vedere nelle immagini, i veri neonazisti che sparavano sulla folla. C'erano cecchini che sparavano sulla folla. Questa è stata la rivoluzione del 2014 di piazza Maidan e sa dove si accorge che questa cosa è vera. Se lei va a vedere il governo Poroshenko. Non è che nel governo Poroshenko c'erano le persone, i manifestanti pacifici che avevano portato la gente in piazza. C'erano quattro estremisti di destra provenienti da Sloboda. C'erano tre ministri stranieri. C'era un'americana, un'americana del Dipartimento di Stato, un ministro in Ucraina. Scusi, ma adesso quando io vado per le strade e vedo tutti uniti per combattere gli ucraini, sono tutti fascisti? Sono tutti nazisti in Ucraina? Allora, in Ucraina il popolo non è nazista. Vuole spiegare questa metamorfosi? Assolutamente. O può essere che hanno respirato la libertà e quindi adesso non vogliono di nuovo sottostare a una dittatura. Ma quale libertà? Gli hanno messo un governo con tre ministri stranieri più americani. Gli hanno messo un battaglione di neonazisti che lo hanno integrato nella guardia nazionale. Gli hanno messo un ministro dell'interno che dava prezzetto. 1.600 uomini fanno l'esercito ucraino. 1.600 uomini di un battaglione, il battaglione d'Azov. Fanno tutto. Prego, c'è l'Ucraina lì in studio. Si ha coraggio, risponda a lei. Non faccia rispondere a me qui dall'Ucraina. Risponda a lei per cortesia. Rispondo io. Non è che mille persone fanno. In Ucraina non sono state mille persone. Il problema è stato come li hanno integrati nelle istituzioni politiche. Allora, da questo momento in poi Telese l'ha buttata in cacciara e non mi hanno dato invece la possibilità di spiegare nei dettagli che cosa io intendessi quando ho detto che i neonazisti in Ucraina li hanno fatti integrare perfettamente nelle istituzioni politiche e non solo del paese. Giletti parla di 1.300 estremisti che fanno parte della guardia nazionale. A parte il fatto che io già ritengo assurdo che 1.300 uomini di un battaglione Azov definito dall'ONU e dall'Ocse come un battaglione neonazista responsabile di crimini di guerra, di torture e di stupri venga integrato nell'esercito ucraino. Il vero problema è che questi neonazisti, dopo la rivoluzione del 2014, che doveva essere una rivoluzione democratica, sono arrivati al governo del paese. Nel governo Poroshenko, soprattutto all'inizio, c'erano ben quattro ministri provenienti da un partito di estrema destra chiamato Sloboda. Tra di loro c'era anche il presidente del Parlamento ucraino, il viceministro dell'Ucraina e poi c'era la figura di questo ministro dell'interno, Avakov, il più longevo dei ministri dell'Ucraina, addirittura per diversi mandati, che era il tramite tra il governo e i battaglioni di estrema destra ucraini. Quindi ha voluto addirittura alcuni dei membri di questi battaglioni, sia a capo della polizia, sia nelle sedi del ministero dell'interno di Kiev. Questo ovviamente è tutto certificato. I rapporti tra il ministro dell'interno ucraino e il leader dei battaglioni neonazisti in Ucraina è assolutamente documentato. Poi ci sono altri collegamenti importanti. Il finanziatore, quindi il fondatore ed il finanziatore di questi battaglioni, tale oligarca ucraino di nome Kolominsky, era anche il proprietario dei principali media dell'Ucraina. Kolominsky, e questo non è un dettaglio da poco, è anche il proprietario di quel canale televisivo dove è andata in onda la serie televisiva che ha reso famoso l'attuale presidente dell'Ucraina, Zelensky. Era il proprietario delle principali banche dell'Ucraina e proprio nel 2014, in seguito a quella rivoluzione che, ripeto, doveva essere democratica, è stato nominato come governatore di una delle principali regioni ucraine. Questo personaggio non solo aveva creato e finanziato battaglioni di estrema destra, ma addirittura era solito mettere delle taglie sui filorussi. Un'azione che potevamo immaginare di vedere nei film sui cowboy e sugli indiani, che invece si svolgeva alle porte dell'Unione Europea. È doveroso precisare che questi ministri provenienti dai partiti di estrema destra hanno avuto ovviamente vita brevissima al governo, quindi sono stati messi da parte da quello che era stato il governo provvisorio, però, ripeto, hanno continuato ad incidere, soprattutto per quanto concerne la Guardia Nazionale, per quanto concerne la Polizia, per i legami con il Ministro degli Interni. Cono Whisky ha continuato ad incidere con le sue banche, con i suoi media, con i suoi finanziamenti a quelli che poi sarebbero stati dei personaggi chiave nel futuro politico dell'Ucraina. Quindi quella è sicuramente la matrice. Poi Cono Whisky e Zelensky risultano anche nei Pandora Papers, ossia in quella serie di documenti che attestano i movimenti di soldi nei paradisi fiscali. Cono Whisky risulta anche collegato all'Aburisma, ossia alla prima azienda ucraina del gas, nel cui consiglio di amministrazione a partire dal 2014, quindi sempre a partire da quella che doveva essere la rivoluzione democratica, era stato assunto il figlio di Joe Biden, Hunter Biden, per addirittura 50 mila dollari al mese di in carico. Questo per farvi capire quanto stretto fossero i legami tra gli esponenti dell'estrema destra che si erano distinti durante le proteste di Euromaidan e gli apparati americani che sul nuovo governo metteranno le mani. Però scusa hai fatto una piccola falsificazione che è importante chiarire. Hai confuso quel governo con quello di oggi, ma in mezzo c'è... No ma è lì che nasce! Ma è tutto lì che nasce! Ma come fanno a capirlo? Come fanno a capirlo? Ma non nasce niente! Tant'è vero che devi ammettere tu che un altro governo... Quel governo ha costretto Putin all'intervento di Delea! Scusami, ci sono state le elezioni! Ti potrà non piacere Zelensky? Ci sono state le elezioni! Ed è un altro governo rispetto a quello di cui parlavi! Quindi tu stai falsificando per legittimare il fatto di... Tele, se te lo ripeto nuovamente perché forse in studio non si è sentito, anche il presidente Yanukovic veniva da una elezione democratica col pieno dei consensi, eppure non hanno avuto il remore a farlo crollare quel governo. Ti invito a leggere il rapporto dell'OSCE sulle elezioni parlamentari in Ucraina del 2019. Puoi scoprire un po' di cose interessanti sul concetto di democrazia durante quelle elezioni. Non mi spiace per lei che è Ucraina, perché lei realmente ha seguito una rivoluzione democratica. Il governo Poroshenko, che è stato messo dopo quella rivoluzione, ha fatto diventare l'Ucraina il paese più corrotto, il paese più povero, ma non è vero, non è vero. Come vedete, la signora Ucraina dice che non è vero che con il governo Poroshenko l'Ucraina ha raggiunto il record del paese più corrotto d'Europa, il record del paese più povero d'Europa ed il record del paese al mondo con il presidente con il più basso indice di gradimento. Come vedete, sono tutti dati. Come vedete, sono tutti dati assolutamente certificati ed è anche il motivo per cui poi sono riusciti ad imporre Zelensky, dopo avergli costruito attorno quella serie televisiva che in qualche modo lo faceva entrare nelle case e nei cuori degli ucraini come il presidente perfetto. Poi sappiamo bene che quella serie televisiva è finita poco prima delle elezioni presidenziali. Intanto il nome di quella serie televisiva era diventato il nome di un partito politico servitore del popolo, proprio come si chiamava la serie, ed il protagonista di quella fiction diventava invece il candidato alla presidenza dell'Ucraina. Quindi una operazione di marketing politico magistrale che ha fatto sì che Zelensky diventasse il nuovo presidente. Allora, io volevo chiedere, quando lui ci stava in Ucraina? Non l'ho capito. Lui è stato in Ucraina una volta? Tu sei stato in Ucraina. No, io sono un giornalista d'inchiesta, quindi studio dai documenti quello che... Allora, noi siamo un paese diverso come Italia. Abbiamo una storia diversa di Italia. Lo so. Se per un italiano nazista c'ha un significato... No, il nazismo ha un significato universale. No. Questo è l'errore vostro. Non è vero. Tant'è vero che avete voluto fare, Stefan Bandera, che secondo l'Unione Europea... Ma abbandonete russe! ...è un terrorista criminale di guerra. Ma abbandonete russe! ...voi avete fatto eroe nazionale. Io sono... E come pretendete allora poi di entrare nell'Unione Europea se avete due vedute così diverse? Ma non è vero questo. Bisogna un attimo... Ma se mi va a parlare? No, solidarietà con il popolo ucraino sempre. Ogni cinque minuti cambia posizione. Solidarietà con il popolo ucraino sempre. Perché è stato ingannato dagli Stati Uniti, è stato ingannato dalla Nato che li hanno illusi e ne spiace. Come potete vedere questa era la rete di intrecci che avrei voluto poter presentare in TV in una diretta nazionale per capire un po' il punto della situazione, quindi per avere chiaro che cosa è accaduto nel 2014 in Ucraina con ripercussioni che ovviamente arrivano fino ai giorni nostri. A chi mi chiede perché io ritenga fondamentale capire quali sono le cause e soprattutto le origini del conflitto tra Russia e Ucraina alla luce dell'escalation che quegli eventi hanno avuto a partire da febbraio 2022 vi rispondo che questa cosa è fondamentale per fare in modo che chi è stato parte del problema non venga oggi visto come parte della soluzione e faccio principalmente riferimento agli Stati Uniti e alla Nato.